C'è una parte inconsistente che affida ai sindaci la possibilità di emettere ordinanze. Molti sindaci stanno interpretando queste ordinanze nel senso di vietare i soldi ai migranti, criminalizzare le fasce deboli, andare in una direzione repressivo-sicuritaria in un'ordinanza e manifesto che noi non condividiamo. Noi abbiamo allo studio, ormai siamo quasi pronti per fare ordinanze invece assolutamente innovative e rivoluzionarie che vanno esattamente nel senso di portare vero benessere laddove c'è il degrado e quindi ordinare ai soggetti che possono svolgere attività di riqualificazione e recupero di portare sicurezza urbana, benessere e decoro. Perché non sono le persone che danneggiano il decoro, è il degrado che danneggia il decoro, invece ci sono tratti dell'ordinante e della legge che fanno quasi credere che il problema per lo sviluppo delle città siano le persone. Quindi su questo è il potere del sindaco. Poi c'è tutta un'altra parte della legge che io critico profondamente e mi preoccupa non poco e di cui poi le forze dell'ordine nella loro autonomia, forse dell'ordine carabinieri, polizia, finanza, polizia municipale applicano quel tipo di legge. Poi come tutte le leggi si devono interpretare e anche chi le segue le deve interpretare a mio avviso in maniera costituzionalmente orientata, in maniera adeguata. Ci sono aspetti in cui si può intervenire in un modo oppure in un altro. Se volete la mia opinione personale, il predaspo a un fioraio mi sembra un non senso, al di là della correttezza formale. Tanto è vero che siccome a me non piace fare polemica e non piace criticare, ho deciso di far venire il fioraio nel mio ufficio, al quale daremo un'autorizzazione per vendere in modo a quel punto regolare i fiori nella nostra città, con un bello luogo in cui nessuno lo potrà disturbare e nessuno gli potrà applicare un domani un taspo. Perché francamente in questa città ci sono tanti problemi, ma non mi pare che i fiorai, anzi io poi sono un amante dei fiori, quindi rischio di avere un conflitto di interessi perché i fiori mi piacciono. E quindi avrei difficoltà a discernere il tema del fioraio uguale predaspo. Quindi le forze di polizia chiaramente applicano la legge, noi l'abbiamo detto che quella legge ha esattamente questo rischio. Questo rischio di portare da una parte a attività di repressione nei confronti di chi si magari può anche fare una cosa che non è ancora regolare, ma che viene avvertita non come una cosa pericolosa socialmente, visto che è la legge sicurezza. E poi invece può essere utilizzata in modo un po' più efficace, forse tra fioraio e parcheggiatori abusivi, per esempio un tema su cui ci sono delle leve che possono essere maggiormente utilizzate. Quindi io credo che in questo tema bisogna stare molto molto attenti perché questa legge potenzialmente è assai pericolosa perché può produrre una torsione autoritaria di cui se non ci svegliamo rapidamente ce ne potremmo accorgere che è altro che predaspo al fioraio, cose ancora peggiori. Quindi noi da parte nostra l'abbiamo criticata nei punti dove andava criticata, cercheremo di correggerla laddove si può correggere. Il sindaco per quello che è il suo ruolo farà delle ordinanze molto molto forti, innovative, rivoluzionarie e creative o anche, portafortuni, o anche, devo dire un'ultima cosa, poi si può anche e si deve in alcuni casi magari applicare anche la legge per come rigorosamente appare rigida, anche se io continuo a dire che tutto si può interpretare. Forse certe volte considerare un fatto addirittura di darne una valenza mediatica e in qualche modo raccontarla come un fatto particolarmente pregevole non credo che aiuti. Secondo me ci stanno tante attività che si fanno egregiamente sul territorio, che si stanno facendo bene di cui certe volte non si parla, invece una cosa di questa probabilmente se non fosse stata data risalto mediatico si sarebbe potuta gestire appunto nella maniera che sto dicendo io, appena ne venivo a conoscenza, si poteva fare quello che abbiamo fatto e chiudo in questi anni dove abbiamo autorizzato ben 5.000 ambulanti che prima svolgevano un'attività ritenuta illegittima e oggi accettando le regole appunto del rispetto della città, del bene comune, anche del decoro e della qualità con cui si eserce il proprio mestiere sono usciti fuori da quel limbo della precarietà. Quindi credo che questa vicenda da un male può nascere sempre un bene. Quindi è una vicenza un po' incresciosa per come è stata montata. Proviamo a far uscire una cosa positiva che è quello di avere un fioraio che possa essere finalmente autorizzato. Quindi un lavoro sull'immersione del lavoro? Sì, secondo me sì, però attenzione alla legge sicurezza perché se viene interpretata in un certo modo produrrà tanti di queste situazioni che insomma sono un po' particolari, che rischiano di dividere la città perché c'è chi vorrebbe più un atteggiamento incalzante sulla repressione, chi è più tollerante, chi è più attento ai diritti individuali, chi è più attento alle immagini. Insomma io sto facendo uno sforzo quando ho chiesto quindi a tutta la macchina amministrativa di provare ad andare nella direzione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge Miniglio. Ho anche parlato col comandante della Polizia Municipale ieri. Io credo che questa città ha sempre saputo trovare un punto di equilibrio e lo stiamo dimostrando perché siamo una città a modello e laboratorio che tutti apprezzano perché sappiamo coniugare rilancio della città, decoro, riqualificazione però rispetto dei diritti individuali, rispetto degli abitanti e rispetto anche delle persone che sbarcano in lunario e che magari non fanno un'attività che è criminale. Quindi credo che tutti quanti insieme col buon senso che certe volte viene prima ancora della legge e con l'interpretazione della legge possiamo fare sicuramente un buon lavoro.